Ciao ragazzi, oggi siamo qua con il nostro Parma in FIFA 19 per giocarci la partita col Tottenham e poi col Frosinone La partita col Tottenham è veramente importante, forse la più importante dell'anno fino adesso perchè ci giochiamo il quarto di finale di Champions League nel caso che vinciamo riusciamo ad andarci, se no ciao ma anche un pareggio andrebbe bene quindi giochiamo con Andre Silva, Ronaldo mettiamo Tamperera praticamente tutti i titolari praticamente, non voglio rischiare, voglio giocarmela bene all'andata abbiamo vinto 2-1 quindi dai, dai ragazzi ci siamo partita contro il Tottenham che sta per iniziare le squadre scendono in campo che mi accompagnerà come sempre che ansia sinceramente, che ansia Andre Silva, Ronaldo inquadrati dai ragazzi su dobbiamo assolutamente vincere Bentancur Bentancur per Andre Silva Sancio Sancio per Bentancur che si muove molto bene Bentancur 3-2 Prenera Serdar Serdar 1-0 Parma dopo mezz'ora la partita si slocca su 1-0 per noi in fuorigioco cioè fuorigioco che sto dicendo in fuoricasa volevo dire grandissimo grandissimo Serdar quindi diciamo che siamo abbastanza sicuri al momento devo farci due gol per andare a supplementare e tre per vincere quindi ragazzi dai non soffriamo troppo il Tottenham attenzione mamma mia Henry Kane cosa fa fa una da una botta un tiro veramente fortissimo il portiere è sorpreso sul suo palo ahimè che botta ha dato Henry Kane porca miseria 1-1 si torna in parità Perera il club che si muova Serdar Bentancur Perera Permancini Andresilva 2-1 Parma il portiere praticamente non esce a sua discolpa e Andresilva fa un gol di testa da pochi metri grande Parma 2-1 fuori casa direi che ora proprio siamo messi top perché dovrebbero fare tre gol ora per passare il Tottenham se non vado errato dovrebbero fare tre gol perché con due passiamo ancora noi per i gol in fuori casa buono ragazzi dai sta andando bene si riparte Perera finisce il primo tempo su 2-1 stiamo andando bene io farei un po' di turnover sinceramente anche perché siamo abbastanza sicuri dovrebbero fare tre gol non credo che ce la potrebbero fare non gufiamocela ma spero di no ecco mettiamo Sain per Serdar facciamo solo questo piccolo cambio tattico e andiamo a questa partita cerchiamo di non farci sorprendere insomma di non farci recuperare Andres Silva per Sancho Sancho ancora lui Sancho gol di Perera Leige Parma 3 Tottenham 1 li stiamo asfaltando Perera fa un grandissimo gol di testa su assist di Andres Silva se ne vado sbagliato no su Sancho su assist di Sancho bravissimo Perera e siamo tre e siamo niente ancora il Tottenham partita da centrocampo in questo momento Mendy bravo Colombo no fallo niente da fare pensavo che era sulla palla ma invece no avevo qualche dubbio qualche sospetto bravissimo Mancini ancora Mendy Fontana fa un ottimo intervento caccio d'angolo per il Tottenham con Ericsson Perera Riccardo c'è dentro il cross ma la palla fuori pericolo sventato no che gol di Son a giro Fontana riesce ad arrivarci bel gol di Son veramente gran bel gol però sono già passati praticamente non è che mi sto preoccupando più di tanto anche perché manco ok ok è finita passiamo al quarto di finale di Champions League contro un Tottenham che è sembrato molto arrendevole non molto cattivo sottoporta un Tottenham un po' svogliato ma bene così abbiamo fatto anche noi una bella una gran bella partita partita equilibrata comunque 5-5-4-4 cioè comunque non è che è stata poi così dominata anche perché il Parma nel secondo tempo a dire la verità ha giocato abbastanza maluccio non mi sono neanche impegnato ecco se devo essere sincero e passa Atletico Madrid passa il City il Parma e il Barcellona City Madrid Barcellona Parma oh insomma abbiamo una bella montagna da scalare spero di beccare l'Atletico Madrid perché è quella più fattibile tra le tutte comunque comunque primo torneo quasi 10 milioni buono così andiamo col Frosinone a questo punto a giocarcela un parito abbastanza facile dovrebbe essere sulla carta almeno Frosinone perché 18esimo in classifica abbiamo poi in Milan in Coppa 4 giorni più tardi quindi io andrei a fare turn over col Frosinone e mi giocherei la Coppa con Milan con i titolari quindi mettiamoci in attacco Paulsen e Higuain Romano oggi Goch Tevez anche se non è il suo ruolo Shuduri mamma che squadra di cadaveri ambulanti però Teo Barnier e Sar mamma una squadra comunque inguardabile cioè sono tutti cotti veramente sono arrivati a fine stagione cotti ma sul serio dovremo prendere tre punti con questa squadra in linea teorica oh benissimo eccoci qua siamo in casa con il nostro pubblico dobbiamo assolutamente vincere per prendere questi tre punti per il campionato un campionato che ormai a mio parere è chiuso però non si sa mai dobbiamo anche lo scontro diretto contro la Juve quindi dovrei prendere tanti punti quello si però però potrebbe anche essere attenzione Higuain per Romano per Higuain per Romano per Romano mamma che palla pipita non ci credo non ci credo Romano ha dato una palla veramente bella assurda mamma mia Romano cosa aveva fatto porca miseria ma siamo con l'attacco Tevez Embrymore Higuain per Goch 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 attenzione sulla fascia no Embrymore di rovesciata peccato non è andata come doveva andare una edizione e Goch Tevez Romano Paulsen non usciamo a trovare in pertugio per tirare ci prova Shaduri ancora di nuovo lui manovaretti para ancora veramente stiamo attaccando tutti i lati Tevez Higuain no Tevez ancora lui ancora Higuain ci prova ancora calcio d'angolo un Parma che sta attaccando veramente tanto Teo ah Sar ancora deviazione un altro calcio d'angolo ma che è calcio d'angolo challenge oggi Pipita ancora lui ma riparte Frosinone forse ma ancora no ancora noi in attacco Embrymore non c'è nessuno però stavolta mi tocca tornare indietro Paulsen Tevez Goch ma Higuain non ci arriva il difensore che allontana fallo laterale per il Parma Paulsen Paulsen Sinone andiamo subito su Emremore Emremore potrebbe grossare ci prova ci prova sulla fascia Emremore ah peccato ancora Emremore Paulsen no attraversa di Paulsen non ci credo non ci credo finisce più tempo con attraversa di Paulsen no no veramente un vero peccato un vero peccato c'era tutta azione c'era tutta Emremore Higuain è cotto poi non c'abbiamo i cambi abbiamo Paulinho per Goch volendo via McKennie per Tevez e per il momento basta non stiamo giocando male però non riusciamo a concretizzare c'è il segnale dell'arbitro comincia il secondo tempo c'è il segnale dell'arbitro comincia il secondo tempo spinta del portiere Emremore fa una sterzata tira a giro ma McKennie c'è e la mette lì dove non può arrivare il portiere bravo McKennie si fa trovare pronto subito eh McKennie che apertura che ha fatto Paulsen per Emremore Emremore per Higuain per Higuain Higuain vede Romano sulla fascia che si fa vedere che stop perfetto Romano è abbastanza stanco ma c'è per il cross McKennie Suduri che botta Novaretti in calcio d'angolo mamma mia Suduri oggi sta giocando benissimo Emremore per Teo peccato peccato Paoligno 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 2-0 Parma 2-0 Vamos praticamente chiusa stanno verso il settantesimo non dovrebbero assicurare i problemi bravo Paoligno mamma mia mamma mia bene così bene così mamma che rischio Barnier Emremore Paoligno bravo Paoligno Romano Romano per Paoligno che lancio Yusuf Paoligno e siamo a 3-0 3-0 per Paoligno Paolsen mamma mia come stiamo giocando mamma mia Romano Romano che assist che giocatore non ho gol per Paolsen in Serie A bravissimi ragazzi sembrano ormai sembrano ormai avere la situazione sottilmente a sbagliare Iguain Iguain per Romano per Romano Paulsen Emremore ma è cotto stracotto ma allora Emremore cosa fa probabilmente si è stirato Iguain per McKennie che tiro che sassata McKennie 4-0 Parma ma che tiro ha fatto McKennie giocata Iguain assist porca che sassata e siamo a 4 doppietà per McKennie appena entrato nel secondo tempo Bravo McKennie oggi attenzione a Frosinone che fa il 4-1 con Ciano 4-1 che non ci dice niente assolutamente non ci fa cambiare nulla nulla era meglio un 4-0 più rotondo però va bene lo stesso che ci frega a noi che ci frega importante vincere Iguain Paolinho ma peccato ma c'è ancora McKennie Shiduri Emremore a parte Frosinone a parte Frosinone Yarenchuk o come si chiama Shaduri bravo Shaduri Shiduri Emremore Paulsen eh ma Frosinone è bravo in fase difensiva a chiudere Paulsen Shiduri Romano finisce la partita 4-1 per il Parma dominata sotto ogni più probabile frangente mamma mia che partita 18 tiri a 3 già parla chiaro quanti tiri abbiamo fatto in Milan però perde la Roma pareggia la Lazio pareggia buoni risultati per noi ehm solo che dobbiamo vedere un po' come si è messi ora in classifica vabbè che ora abbiamo in Milan in semifinale di Coppa Italia attenzione allora perché non c'è nessuno che si allena fatemi capire Perera si allena ok va bene e chi devo far allenare Fontana è quello più è un portiere assurdo Fontana sta diventando mamma mia se è forte Fontana se è forte Fontana è un 88 ormai arriverà a 90 a fine anno secondo me Fontana poco ma sicuro andiamo contro il Milan a vedere un po' la classifica vabbè elenco convocati ma che ce frea comunica rosa va bene tutto allora email conferenza stampa non ci interessa Romano se è infortunato per due settimane a Romano una volta che giocavi bene mi stavi convincendo di infortuni così abbiamo il Milan po' da Roma è questo il problema non so se sia il ritorno o l'andata non mi ricordo se aveva già giocato con il Milan in Coppa Italia mi sembrava di sì a me vediamo subito no 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 quindi bisogna che ci giochiamo bene questa partita ora siamo terzi in classifica ancora 16 punti della Juve ciao Juve veramente ciao Juve ma va sul serio la prossima sarà contro la Roma potremmo avvicinarci al secondo posto eventualmente quindi non si sa mai qui ci faremo passiamo una volta a Milan e Roma due partite importanti vediamo di vincerle e niente ragazzi vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi